Musica Per spiegare una cosa, i nostri rapporti relazionali, soprattutto nella Chiesa, funzionano così, c'è nel senso che spesso e volentieri noi siamo molto distanti l'uno dall'altro, anche come relazione così, però siamo legati dallo stesso tipo di filo molto lungo che è Cristo Gesù. Ok, grazie. Grazie, sei un ottimo valletto, se vuoi. No, questo era un esempio visivo per spiegare quello che veramente volevo dire oggi. Praticamente io volevo proprio parlare dell'amicizia, di questo qua che è un aspetto profondo che Dio ha donato, soprattutto nella Chiesa, dove praticamente comunque le relazioni e il modo di relazionarci viene molto difficile, viene anche un po' complicato perché comunque rimanere in contatto con 30, 40, poi quando diventa 100, 200, e proprio alla fine si creano i famosi mini gruppi, quattro persone, le vedi, le conosci, parli con loro e non parli con gli altri. Ma perché, 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 perché tutto questo? Perché praticamente noi comunque dobbiamo comunque vivere una relazione basata sull'amicizia? Perché Dio ha dato questo come dono, ha dato questo come capacità di poter capire noi stessi e di capire gli altri. Se noi andiamo su Proverbi 27, 17, e dice, come il ferro affila il ferro, così l'uomo affila l'uomo. Questo è una sorta di passo che viene usato spesso, ma è un concetto che dietro c'è anche nella Chiesa. Dice, vedi, come il ferro si aguzza col ferro, l'uomo aguzza l'ingegno del suo compagno. Questo è bello. No, per dire che quando in una Chiesa vengono persone nuove, sono amici che noi non ci scegliamo, cioè sono persone che non hanno molto in comune. Quello che è il legame nella vita reale, o nella vita che io potrei definire mondana, cioè nella vita dell'outside, del fuori, è che io mi scelgo gli amici perché ho interessi con loro, mi piace giocare ai videogiochi, mi piace andare a pesca, mi piace andare... Cioè sono interessi che io ho. Quelli della Chiesa non sono interessi uguali, perché l'unico interesse che noi tutti abbiamo è Cristo Gesù. Quindi, cosa Dio fa? Perché esiste la comunità? Perché noi ci relazioniamo? Perché il desiderio di Cristo è lo stesso benesimo per ciascuno di noi. Quindi, la relazione di amicizia che noi tutti dobbiamo investire e l'unica connessione che è veramente profonda è la nostra relazione personale e intima con Dio che viene a svilupparsi in ognuno di noi. Cosa succede? Io incontrerò spesso e volentieri, voi come persone, una volta alla settimana, la domenica, o chi più che cresso per incontri, per altre cose. Quella che si può chiamare intimità non è una profonda intimità, ma lì a mia intimità con Gesù e la mia personale rivelazione di Gesù fa sì che io e te siamo connessi allo stesso filo conduttore che è Cristo e la sua croce. Quindi, quando noi ci ritroviamo sotto lo stesso filo conduttore che è Cristo e Gesù, noi facciamo quello che era il Luca 14. Gesù cosa dice? Dice, or molta gente che andava da lui e rivolto verso la folla dice, se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, le moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere il mio discepolo. E chi porta la sua croce e non viene dietro di me, non può essere il mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che qualcuno ne abbia posto le fondamenti e non lo possa finire. Tutti quelli che lo vedranno cominceranno a beffarsi di lui dicendo questo è un uomo che ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Cioè, se noi abbiamo veramente la voglia di essere relazionati in amicizia tramite la croce di Cristo in una comunità, l'unico modo che è possibile per noi è negare noi stessi e accettare il prossimo, e accettare l'amicizia del prossimo, accettare veramente l'amore del prossimo. Quindi quello che ci lega profondamente verso la persona che ci sta a fianco, che è la più strana possibile, è l'amore che Dio ci dà dentro di noi. Cosa succede? Dio, Gesù dice voi dovete negare voi stessi e in un altro passo, Di Giovanni dice voi mi amate se fate le cose che io dico e voi siete i miei amici se fate le cose che io dico. Quindi se l'amicizia che Dio, che Gesù ha in testa è l'amicizia dove noi siamo connessi con Cristo, significa che la relazione che noi dobbiamo avere nella Chiesa è una relazione spirituale, è una relazione di amore oltre il nostro modo di fare e di vivere. Quindi la nostra relazione personale è siamo qui, qualunque cosa succeda che il fratello ci può fare, noi scatureremo una fonte pure di amore che è l'amore che Gesù ci dà. E dobbiamo essere uniti e compatti non perché abbiamo gli stessi interessi in comune ma perché abbiamo lo stesso Cristo. Quindi nulla ci potrà veramente separare, nulla ci potrà lasciare se non il fatto che Dio ci ha donato lo stesso medesimo amore che ci connette tutti insieme. quindi la vera relazione, la vera amicizia che Cristo ha concepito è una relazione di intimità prima con Gesù e poi con il tuo prossimo. Quindi cosa succede? Succede che tu sprigioni l'amore di Dio ma gli occhi di Dio e quando tu vai ad una persona e quella persona magari ti ha anche parlato male, ti ha anche ferito, ti ha distrutto, ti ha proprio le cose, tu vai lì e cerchi di esprimere il tuo amore di Gesù, cerchi di esprimere quello che è non la tua rabbia, non le tue cose, non quello che tu hai dentro, tu sei stato spezzato, tu sei stato ucciso. Vai con il tuo amore e abbracci quella persona e comunque passi tempo con quella persona e cerchi intimità e relazione perché la relazione nella comunità è una relazione con Dio. Infatti Dio dice quando è che ti abbiamo offeso, quando è che ti abbiamo maltrattato, quando l'avete fatto uno dei miei minimi fratelli perché praticamente quella è la sua intimità, cioè tu non puoi parlare a Dio Dio dammi il tuo amore, Dio voglio vivere con te e poi mistrattare il tuo fratello. Io non dico che questa chiesa succede, anzi io ringrazio perché veramente l'amore di Dio in questa chiesa viene esortato costantemente e noi tutti ci sentiamo in pace e in amore. Però, come succede, ci sono momenti dove veramente la chiesa cresce e va, ma ci sono momenti dove veramente la chiesa scende e dove magari anche le autorità non sanno bene cosa fare. Quello è il nostro impegno personale di ciascuno di noi, di andare oltre e di capire che ci sono momenti dove Dio sta provando la fedeltà e l'amore di tutti per andare in un livello superiore. Non sono molto lungo, io do solo dei piccoli concetti, quindi, su questo desiderio di amare e di cercare la profondità sia del cuore di Dio sia la profondità del tuo fratello, quello che Dio vede nel tuo fratello ma nel tuo amico in questo caso è la capacità e la particolarità di praticamente instillare quello che magari lui non vede perché come si fa ad essere un buon amico diciamo l'amicizia in sé per sé bisogna capirla come amministrazione come un ministerio cioè noi do bisogna amministrare l'uno con l'altro l'amicizia come fossimo leader o discepoli tutti insieme per imparare uno stesso concetto siccome noi dobbiamo ministrare l'amore molte volte non siamo capaci di dare amore e allora impariamo dagli altri a riceverlo ma poi quando abbiamo capito il nostro carattere come è fatto e abbiamo capito noi stessi come siamo fatti allora lì amministriamo agli altri l'amore che noi abbiamo ricevuto cioè la base solida su quello che noi siamo è sempre Cristo ed è sempre l'amore e cosa succede che noi possiamo ministrare e amministrare gli altri se noi siamo puliti dentro e belli fuori no comunque se siamo veramente ripieni di amore ripieni di intimità con Cristo allora noi sviluppiamo quella che è la capacità di Cristo di amare e allora possiamo noi donare agli altri quello che magari prima non c'era dentro di noi quindi bisogna sempre essere in comunione con Dio bisogna essere sempre in intimità con Dio ma bisogna anche sempre cercare di lanciarsi in posti dove veramente Dio ci sta chiamando per dare qualcosa di profondo se noi aspiriamo diciamo a un ministerio grande se noi aspiriamo a essere uomini di successo nella chiesa nella vita noi bisogna aspirare soprattutto a essere delle persone concrete dentro di noi stessi e di guardare dentro di noi stessi cosa c'è che non va in me cos'è l'onestà di essere persone oneste perché se noi facciamo l'elenco delle cose che vanno e non vanno però cerchiamo anche di dire ok voglio amare di più voglio dare di più voglio vivere una vita nella santità allora queste cose poi succedono succede che praticamente le nostre relazioni i nostri modi di fare il nostro modo di investire il nostro modo di pensare cambia e si trasforma perché nessuno riesce a fare una cosa proprio solamente perché è capace ma solo perché ci mette la volontà di farlo e allora poi Dio l'equipaggia la parabola più famosa è la parabola dei talenti se ne hai cinque ne investi altri cinque se ne hai tre ne investi altri tre ma se hai paura o se il tuo modo di essere è di scavare una fossa e di dire non sono capace allora verrai punito ma verrai punito non da Dio stesso ma dalla vita perché non avrai avuto la gioia di investire nel regno di Dio quindi attivazione pratica due minuti vi chiedo di alzarvi tutti che vi sto facendo già dormire lo so chiedo perdono ma tanto questa è la punizione divina perché io dormo mentre predicano gli altri quindi è giusto che succeda che il contrario andate da una persona e pregate due minuti poi io per me ho concluso andate e pregate